Caro Jack, cara Veronica, allora ieri abbiamo visto chi era il primo uomo, il primo signore ad essersi iscritto all'ISPT di Navagorizza ed oggi abbiamo anche la prima signora, Barbara Pavan, benvenuta. Grazie, questa è una prima esperienza di un torneo grande, è un anno che gioco e diciamo che gioco sempre qui al casino Piccoli Tornei per il Bounty, sono terza in classifica e adesso è la prima esperienza di un torneo grande e speriamo che vada bene, questa è la mia intenzione. È una formula nuova questa dell'ISPT e quindi che cosa l'ha incuriosita e che cosa si aspetta da questo torneo? Mi aspetto di battere i miei avversari che li ritengo sicuramente con esperienza importante e per me sarebbe un traguardo importante da raggiungere. Ecco, ma perché una signora, una donna si avvicina al mondo del poker? Che cosa l'ha spinta a iniziare a giocare? Mi ha spinto soprattutto il fatto che con gli uomini c'è sempre una specie di rivalità quando vedono una donna, per cui la sentono sempre inferiore e di conseguenza io cerco sempre di essere invece superiore a loro. A livello tattico lei ci ha detto una strategia particolare, su cosa si basa? Sull'istinto, sulla capacità magari delle donne di essere un po' più avanti certe volte? Diciamo che gioco una situazione mista, mai uguale, per cui vado sia ad istinto e anche con il ragionamento, per cui nessuno mai sa, non capisce, non comprende cosa ho nella mia mano. Quindi l'imprevedibilità nel poker lei ci dice funziona? Sicuramente funziona o benissimo o malissimo, dipende appunto dalla situazione del momento, per cui o livelli di arrivare al tavolo finale sempre nei primi posti o andare fuori molto presto. Allora noi le facciamo un in bocca al lupo per questa esperienza e contiamo di ritrovarla alla fine, diciamo, del torneo, perché vuol dire che ha avuto un ottimo risultato. Lo spero anch'io e ci tengo, grazie di questa possibilità. Benissimo, allora Jack Veronique da qua da Nova Gorizia del Perla, vi restituisco la linea.